Sono Mario Allegri, è da 20 anni che esercito questa professione e la mia passione principale è la restaurativa dentale. La restaurativa dentale che oggi è una panoramica di esattamenti che spazia dall'odontietria conservativa fino all'odontietria protesica. Comet entra molto precocemente nella mia professione, quindi subito dopo la laurea e entra per una serie di motivi. Il primo motivo innanzitutto è stato l'ampia gamma di prodotti e la cura con cui questi prodotti sono realizzati. Dietro un prodotto Comet c'è una sorta di razionalità che è facilmente percepibile dall'operatore. Per me lo è stato ancora prima di avere la fortuna e la possibilità di andare a visitare a Lengo, la casa madre, in cui ho visto veramente l'estrema accuratezza di tutti i processi produttivi. Oggi la gamma di opzioni terapeutiche che abbiamo per ricostruire un dente è davvero enorme. Andiamo dalla restaurativa minimamente invasiva alle preparazioni coronali complete e per far questo servono strumenti diversi. Servono strumenti con morfologie estremamente diverse tra loro e anche se le morfologie possono essere diverse, quello che noi chiediamo ha uno strumento rotante, sempre l'estrema precisione e l'assenza di vibrazioni. Le tecniche adesive richiedono margini precisi, affidabili, preparati sul smalto sano, così come sul fronte della dentina richiedono strumenti capaci di lavorare dando una sorta di feedback all'operatore. Tra i miei strumenti preferiti sicuramente ci sono i kit per la preparazione di cavità minimali e di questi kit apprezza in particolar modo le forme, le varie morfologie. La fresa diamantata da questo punto di vista ha un vantaggio enorme rispetto al carburto di tunsteno consentendo di avere davvero le forme che più possono adattarsi alle diverse situazioni. e in quest'ambito non posso non ricordare una sistematica che mi ha accompagnato dal 2003 ad oggi, quindi è entrata anch'essa abbastanza precocemente nella mia professione, che è tutta la sistematica che prevede l'impiego di strumenti oscillanti. Ancora una volta precisione di taglio, diverse morfologie che si adattano a situazioni le più varie dal punto di vista clinico, sono i fattori vincenti della scelta di questa sistematica.